Allora con questo si sente? Allora ricominciamo. Si sente? A casa si sente? Sì. Perfetto. Allora buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora buongiorno a tutti. Allora iniziamo la terza sessione del convegno a scuola con Giovanna Molleca. Sì. Allora. Allora. Dò la parola ai primi relatori che sono, dietro il piscine della Università di Roma, Presidente del Cittadino Italiano, e Claudio Giovanazzi, Presidente dell'Azgui, Scuola, Presidente della Università di Roma e Presidente dell'Azgui, Scuola, Presidente della Università di Roma e Presidente di Dattina. E il titolo del loro intervento è Il Parlante Teatrali di Verdi e il Perspettivo di Dattina. Sì, prima di cominciare vorrei ringraziare calorosamente Gabriella Fieri e Andrea Marganaro per la magnifica accoglienza. In questo intervento accomuno anche la direttrice del Dipartimento, la professoressa Marina Paino, perché non solo per la qualità scientifica di quanto abbiamo sentito finora, la quale speriamo di non dare lui un colpo in basso, insomma, Nicola, da adesso... E' più vicino di così? Dovevamo fare le prove, non pensavo di... Allora, sull'area di morizio brevemente, con ringraziamenti se non si sono sentiti bene, vorrei ringraziare appunto gli organizzatori del convegno, la carissima amica Gabriella Fieri, Andrea Marganaro e anche appunto la direttrice del Dipartimento Marina Paino. Dicevo prima, non solo per la qualità scientifica del convegno così come si è svolto sino ad ora, ma anche per la splendida accoglienza ed è sempre piacevole poter ricominciare a rivedersi, a rifrequentarsi, anche se mascherati, ma insomma, comunque è un passo avanti rispetto al penoso isolamento che sono stati costretti in questi ultimi due anni. E tutto questo entro nel merito della nostra comunicazione che appunto ha come punto di disegnamento che causa la possibilità di utilizzare il testo teatrale in particolare nell'ambito della dinattica scolastica. Il testo teatrale, per la sua natura ancipide di proceria tra comunicazione scritta e comunicazione parlata, può rappresentare un ottimo punto di partenza per riflettere a scuola sulle distanze e sulle continuità tra lingua scritta e lingua parlata. Da sempre i gomediografi, e tra loro ovviamente anche verga, si sono misurati con la necessità di trasferire nei copioni elementi, quindi nei copioni scritti, elementi, tratti. Dicevo appunto, la necessità di trasferire nei copioni scritti tratti che avrebbero reso più o meno credibile il parlato dei personaggi teatrali. Come è noto, la consapevolezza della scarsa stabilità del testo teatrale, che è sottoposto ovviamente a revisioni e a rimaneggiamenti altrui, rendeva verga particolarmente diffidente nei confronti del testo teatrale, al quale era restio a concedere fino in fondo la patente di scrittura letteraria a tutto domo. Ma fin dal Cinquecento, cioè appunto fin dagli esorti della commedia italiana, in modi e misure diverse, di tempo in tempo, nell'edificio, nell'officina, diciamo così, dei comediografi, erano presenti forme che avevano naturalmente in modo stilizzato la necessità e la volontà di rappresentare i parlati, usate per conferire appunto maggiore vivacità alla comunicazione teatrale, alla comunicazione tra i personaggi. Si è parlato, quindi a questo proposito, considerando questa caratteristica fondativa del teatro italiano, si è parlato di una vera e propria grammatica del parlato teatrale, cioè una grammatica di tratti che si ritrovano all'interno del parlato teatrale praticamente in tutti i tempi. Quindi la necessità appunto di stabilire un insieme di tratti di natura morfologica, sintattica, testuale e lessicale in grado di rappresentare quella che Pietro Tesone ha definito in un volume fondamentale per quanto riguarda appunto la lingua del teatro, ha definito l'oralità spettacolare. Questi tratti sostanzialmente sono tratti che riviviano ai registri medi, ai registri colloquiali, che sono caratteristici dell'italiano parlato, ma che poi nel tempo si sono riscontrati anche in forme di italiano scritto. Siamo insomma in sostanza nell'ambito di quello che fu definito alcuni decenni orsoni, l'italiano dell'uso medio da appunto Francesco Sabatini. In questo senso quindi, in questa direzione, utilizzare i testi teatrali a scuola, specie di grandi autori, come sono stati Verga e Pirandello per esempio, può aiutare i ragazzi a misurarsi con un italiano letterario sì, ma non necessariamente impettito, quindi un italiano letterario più familiare, più vicino alle abitudini reali che sono tipiche delle nuove generazioni. E adesso, prima di passare la parola a Pietro Trifone, che appunto approfondirà il discorso, volevo brevemente elencare alcuni di questi tratti che fanno parte del cosiddetto parlato teatrale, della grammatica del parlato teatrale. Allora, per esempio, partiamo dall'uso di lui come pronome personale soggetto al posto del letterario tradizionale e formale egli, parliamo del che indeclinato o come giuntore polivalente, le modifiche che vengono fatte all'ordine canonico delle parole all'interno della frase, cioè quindi le cosiddette frasi marcate, l'abitudine di utilizzare il periodo ipotetico controfattuale o dell'irrealtà con il doppio imperfetto, se lo sapevo non venivo, anziché se l'avessi saputo non sarei venuto, ancora la presenza di anacoluti e sconnessioni varie, un'abbondanza fuori, diciamo, da quelli che sono gli usi reali, quindi stilizzata di frasi esclamative e di frasi interrogative, una sintassi veloce e spesso spezzata, soprattutto per quanto riguarda l'inseguirsi e il connettersi delle battute tra loro, pause e interruzioni, in questo sia Verga sia Pirandello sono maestri da questo punto di vista, colloquialismi, proverbi, modi di dire, a questo si è già accennato, mi pare, nella giornata di ieri, e ancora il turpilocchio, come elemento classico del cosiddetto comico del significato, quindi le parolacce che immediatamente muovono al riso, imprecazioni, interiezioni, ancora elementi deittici in grande abbondanza, e ancora ripetizioni, sospensioni, interruzioni e riproposizioni di parole o battute già espresse. Tutto quello che ho appena detto è, diciamo, normale, nella lingua parlata. Naturalmente qual è la differenza tra il parlato reale e il parlato teatrale da questo punto di vista? Beh, nell'insistenza, nella quantità, nel dato quantitativo con cui questi fenomeni sono rappresentati per effetto di stilizzazione. Quindi abbiamo molto spesso una sovrabbondanza, una sovraestensione di elementi naturali nella conversazione reale, ma che appunto nel teatro assumono da sempre, e questa è la cosa importante, una caratteristica costante del testo teatrale dal Cinquecento ad oggi, assumono una caratterizzazione e una stilizzazione particolare. Io mi fermo qui e adesso passo la parola a Pietro, che invece entrerà più nel merito del discorso riguardo a teatro. Grazie. Rimango qui. Spero che mi sentiate. Vediamo un po' come aggiustare il possibile. E anch'io ringrazio molto tutti, mi associo ai ringraziamenti precedenti e continuo un po' il discorso che ha cominciato l'amico, l'amico e collega Claudio. Il confronto tra la narrativa e il teatro di Verga può essere sfruttato in chiave didattica per mettere in luce le differenze tra due diversi generi testuali. Una grande, significativa conquista della scrittura verghiana all'altezza dei Malavoglia è senza dubbio l'uso sistematico di una inedita ed efficace versione di discorso indiretto libero. Ma sappiamo che questa soluzione stilistica non era automaticamente trasferibile nel teatro. Quel caratteristico dialogo raccontato o racconto dialogato per riprendere una celebre formula di Luigi Russo aveva permesso a Verga di muoversi camaleonticamente tra i piani del racconto d'autore e del dialogo in situazione con esiti di singolare tensione stilistica. Si è parlato per esempio ieri spesso dell'artificio della regressione, appunto la nota formula di Baldi. Ma in fondo se noi ci pensiamo bene l'artificio della regressione non è altro che questo cioè il fatto dell'inserimento del dialogo nel racconto perché è chiaro che chi regredisce è l'autore e quindi nel racconto c'è l'autore e se non ci fosse non potrebbe regredire. Invece nel teatro non ci può essere l'artificio della regressione perché l'autore scompare. Non ci sono le parti in cui l'autore diventa visibile e racconta. Quindi questo è sicuramente l'elemento significativo, il primo elemento significativo da mettere in evidenza. Nel teatro ovviamente è possibile, è spesso utilizzata l'operazione mimetica del discorso del personaggio ma viene realizzata senza questa regressione dell'autore. L'autore imita le parole del personaggio, magari lo fa parlare in modo dialettale, lo fa parlare in modo sgrammaticato ma non compare direttamente. Ma questa invece caratteristica, che chiamiamo anche artificio della regressione, è possibile soltanto appunto nel racconto. Cioè dove c'è, come appunto nel romanzo, nel racconto, il libero flusso delle voci, delle prospettive, è possibile questo. E questo però è un privilegio consentito esclusivamente alla narrazione che sappiamo costituzionalmente pluridiscorsiva ed è negato invece alla drammaturgia che è totalmente ed esclusivamente dialogica. Ora questo ovviamente comporta dei vantaggi e degli svantaggi perché da un'idea generale rispetto a chi scrive un racconto l'autore di teatro tende a perdere in termini di flessibilità ciò che però da un lato lato riesce a guadagnare in termini di immediatezza. Nel caso specifico di Verga però il prezzo da pagare in questa operazione era particolarmente oneroso perché consisteva appunto nella rinuncia alla vera e propria cellula generativa del suo singolare, straniante, rivoluzionario linguaggio narrativo. E Verga ha avvertito questo problema e ha cercato di risolverlo. E come ha cercato di risolverlo? Attraverso l'impiego massiccio di tutta una serie di tratti, di forme, di strutture tipiche del parlato come diceva già appunto Claudio cioè ha percorso in sostanza una delle strade maestre di qualsiasi trascodificazione dal testo narrativo al testo drammatico. Ora va sottolineato, ed è stato spesso sottolineato che questo ulteriore innalzamento del già notevole tasso di colloquialità non corrisponde a un parallelo innalzamento del modesto tasso di sicilianità linguistica presente nei capolavori verghiani lo sappiamo molto bene anche dagli studi appunto della nostra ospite Gabriele Alfieri. Cioè per quanto riguarda l'atteggiamento verso il regionalismo il verga drammaturgo rimane sostanzialmente fedele al verga narratore. Vorrei notare che questa soluzione verghiana poi ha avuto un'ampia tradizione successiva è stata molto frequentata ancora oggi se noi pensiamo ad esempio a Elena Ferrante se pensiamo all'amica geniale ebbene anche qui noi abbiamo questo tipo di atteggiamento cioè non parlano in napoletano i personaggi dei romanzi della appunto della Ferrante ed è anche interessante notare parlano in italiano con qualche cenno napoletaneggiante qua e là ma molto raramente un po' come accade appunto in verga se noi andiamo a vedere invece la trascrizione cioè la traduzione la trasposizione filmica eh di questi di questi di questi testi della Ferrante ed è interessante vedere questo questo aspetto anche dal punto di vista didattico anche perché per sollecitare un po' stimolare l'attenzione su alcuni elementi significativi beh insomma invece eh 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 nella trasposizione televisiva eh eh dei romanzi della Ferrante parlano in dialetto spesso cioè spesso gli stessi protagonisti parlano in dialetto e si meravigliano se per esempio qualcuno di loro non parla in italiano magari non nota non dice ma che fai parli in italiano ecco quindi questo da un da un punto di vista può sembrare essere anche in un certo senso un riflesso di un diverso di una di una ricerca di maggiore realismo diciamo da parte di questi eh registi ma d'altra parte appartiene anche a una diversa tradizione a un diverso filone discorsivo eh evidentemente ecco in questo caso non c'è la tradizione che vuole che appunto nel invece del romanzo si usi una formula diversa e più attenuata rispetto all'uso diretto del dialetto importante cioè la tradizione eh da numerosi studi che non sto qui adesso a citare a ricordare risulta che per esempio nelle scene popolari di cavalleria lusticana o poi della lupa ma anche in quelle milanesi di importineria ricorrono con frequenza maggiore che nelle corrispondenti novelle fenomeni ampiamente diffusi nel parlato anche da una campionatura estremamente ridotta risulta la ricerca programmatica di tratti la parte di verga di tratti riferibili all'uso colloquiale ad esempio l'anticipazione di un elemento messo in evidenza oppure la cosiddetta frase foderata o frase ad eco i miei interessi me li guardo io da me invece che io guardo da me i miei interessi oppure sono stato a Francofonte sono stato un cavalleria all'usticano troviamo poi il C cosiddetto C attualizzante o rafforzativo troviamo il C polivalente vediamo chi ci avete in testa chi ci avete in testa voi chi ci avete in testa voi avete la faccia che vi credo una faccia che vi credo che mi fa capire insomma che cosa pensate che mi induce a credervi oppure abbiamo la tipica ridondanza pronominale a me mi l'indicativo il luogo del congiuntivo nelle subordinate a me mi pare che sarà un gran colpo per quella figliuola a condizione che pago io per tutti questo anche è molto diffuso nel parlato a condizione che pago io per tutti questo è in portineria in particolare nella versione teatrale di cavalleria lusticana si registrano ben undici esempi del che introduttore di domanda del tipo che vai a Roma adesso faccio un esempio così inventato adesso invece che vai a Roma da solo ci sono undici esempi mentre nella novella il fenomeno si presentava in due soli esempi quindi c'è un aumento appunto dell'elemento parlato faccio un esempio o comare santa che andate a confessarvi dove si può notare anche la marca toscaneggiante o o comare santa comunque un vocativo insomma ma è un po' toscaneggiante questo allocutivo che è più volte utilizzato appunto nel dramma un ingrediente proprio peculiare del dramma in portineria è l'elevata frequenza della ripetizione di singole parole di intere frasi che è una marca di oralità fra le più ordinarie e accessibili che denota questa marca appunto l'orientamento antispettacolare per così dire delle soluzioni linguistiche vergiane sì sì oppure bene bene lasci fare a me lasci fare a me niente niente sì sì ancora oppure anch'io anch'io va là va là a chi lo dice a chi lo dice badi badi evidentemente c'è una volontà proprio di individuare un certo livello di discorso molto 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 colloquiale lo scenario dell'opera in portineria deriva dalla novella il canarino numero 15 della raccorta per le vie che appunto è ambientata a Milano comporta il necessario adeguamento del colore locale che è perseguito da verga con vari mezzi inclusi quelli linguistici però pur che questi mezzi siano comunque in grado di integrarsi nell'uso nazionale ecco questa è quella è la formula che usa appunto Gabriella Alfieri per parlare di questa raccolta ora l'incremento di tratti di carattere colloquiale è accompagnato da una coerente riduzione di aspetti riconducibili alla matrice letteraria è significativa a questo riguardo la mancanza nel teatro verghiano della forma del pronome soggetto ei anche di questo abbiamo sentito ieri parlare il pronome soggetto ei per egli è cara al verga di vita dei campi e dei malavoglia ma è ritenuta evidentemente inadatta alle diverse esigenze del genere drammatico trova quindi conferma almeno in linea generale la nota affermazione di Gianfranco Contini Gianfranco Contini che diceva gli umili verghiani e il loro narratore fanno un uso varchissimo di color locale e parlano un italiano familiare e non specificamente siciliano insomma sebbene non raggiunga la forza di rinnovamento espressivo delle novelle e dei romanzi maggiori il teatro di verga fornisce comunque un contributo importante alla definizione linguistica del moderno parlato scenico anche per la sua influenza sui contemporanei in questo quadro vorrei soffermarvi brevemente e finisco con questo esempio sul dramma dal tuo al mio che ha un certo interesse particolare anche nella prospettiva didattica questo dramma rappresentato a Milano nel 1903 e replicato a Roma nel 1904 in una versione fortemente rivista rinnovata è stato concepito direttamente per la scena questa è una novità per il verga solo successivamente viene stato trasformato il romanzo il romanzo dallo stesso titolo quindi c'è qui un'operazione inversa rispetto a quella più comune nella produzione verghiana e nella letteratura in genere e cioè dove si verifica invece con notevole frequenza il passaggio dal testo narrativo piuttosto il passaggio dal testo narrativo a quello teatrale piuttosto che il contrario come in questo caso inoltre il ritorno all'ambientazione siciliana si collega si collega in dal tuo al mio all'analisi di una tematica di scottante attualità e anche questo potrebbe essere un elemento di interesse didattico infatti nelle animate sale del palazzo nobiliare di Navarra scusate si assiste al conflitto tra la vecchia aristocrazia ormai esangue a cui appartiene il barone Raimondo e la nuova borghesia a rivista rappresentata da Don Nunzio Rametta e poi c'è anche un embrione di classe operaia ancora gracile e divisa lo scontro tra questi diversi elementi vedrà infine prevalere le ragioni del tornaconto individuale su qualsiasi principio o ideale inclusi i principi e gli ideali di ispirazione democratica sbandierati da Luciano lo zolfataro che ha sposato la figlia del padrone e spiene contro gli antichi compagni di lotta , lui è un sindacalista insomma, ma spiana il fucile contro gli antichi compagni di lotta per difendere i beni della moglie e quindi anche suoi. Questa conclusione riflette certamente la visione disincantata dei comportamenti umani propria dello scrittore ma allo stesso tempo appare in piena sintonia diciamolo con la sua posizione di latifondista conservatore che era dichiaratamente ostile ai movimenti di protesta dei lavoratori che avevano agitato l'ultimo decennio dell'Ottocento lo stesso e qui posso citare lo stesso Verga che in una lettera a Napoleone Colagliani del 19 novembre 1891 affermava Napoleone Colagliani che aveva lodato insomma in qualche modo l'arte veridiana ma insomma a questo che era di sinistra Napoleone Colagliani dice e la saprà gli dice appunto gli scrive Verga che io tenuto per rivoluzionario considerato rivoluzionario in arte sono inesorabilmente codino in politica naturalmente c'è un certo eccesso forse anche perché forse dire che è codino è un po' troppo diciamo che è un moderato insomma è codino però proprio codino penso no è un'esagerazione però quello che mi sembra interessante in questa frase è che lui si compiace di definirsi un po' codino anzi codino dice decisamente anzi inesorabilmente codino e al tempo stesso però si compiace di dire che è stato rivoluzionario in arte e in fondo questo mi sembra che sia sicuramente più vero insomma dell'altra frase o almeno più completamente diciamo vero ecco mi pare che veramente dal tuo al mio sia in grado di offrire un'immagine articolata e stimolante dei fermenti sociali e insieme delle resistenze al cambiamento che caratterizzavano l'Italia nel tempo mi pare che insomma ecco unire insieme come abbiamo fatto in questo convegno quindi alla fine concluderei con questa piccola morale insomma unire insieme la lingua la letteratura la storia la società ecco sia un'operazione assolutamente importante anzi io ringrazio a Gabriella che ci ha aiutato a realizzarla in questa in questa sede mi auguro che questa operazione quindi sia ulteriormente approfondita e sia svolta ma ne sono convinto anche nella scuola dove non a caso poi la materia si chiama italiano e comprende la lingua e la letteratura e deve assolutamente continuare ad essere questo mi ringrazio bene grazie per quanto riguarda il teatro è una lingua che assume anche caratteri di più scarsa letterarietà e che quindi è particolarmente funzionale d'altronde il teatro e il melodramma anche hanno una funzione rilevante proprio per la costruzione di una lingua nazionale quindi grazie per questo primo intervento io intanto saluto anche a nome degli organizzatori immagino gli studenti che ci hanno raggiunto una classe buongiorno una classe immagino di un liceo di Catania che in effetti questo convegno è dedicato anche a loro e quindi ci fa particolarmente piacere avere degli studenti immagino che ci siano anche degli studenti collegati online saluto anche tutto il pubblico i docenti e studenti che sono collegati online e online ci sono anche alcuni dei relatori della mattinata e infatti il secondo intervento è di Carla Riccardi che buongiorno Carla ecco sì buongiorno a voi si sentite? è della Riccardi dell'università di Pavia ed è vicepresidente del comitato nazionale per l'edizione delle opere di Verga e il titolo del suo intervento di questa mattina è come si evolve un romanzo lettura filologica del mastro a scuola quindi le do la parola grazie Silvia intanto saluto Gabriella e tutti i colleghi mi dispiace di non aver incontrato ma ci sarà un'altra occasione e ricordo che l'8 e 9 aprile a Pavia ci sarà una nuova puntata celebrativa ma non solo molto anche operativa del centenario vergiano in cui si parlerà prevalentemente dell'edizione nazionale spero che mi sentiate bene se c'è qualche problema ditemelo no mi sentite bene? va bene allora iniziamo sì sì Carla ti sentiamo mi sentite bene? sì bene allora è abbastanza interessante penso per spiegare come si evolve un romanzo facendo riferimento alle edizioni critiche quindi a tutta l'indagine filologica che è stata svolta e si è concretizzata nelle due edizioni del mastro 1888 e quello 1889 il primo pubblicato in rivista a puntate sulla nuova antologia e secondo invece in volume presso l'editore simbolo per eccellenza di Giovanni Verga cioè Treves perché se noi prendiamo tre punti del romanzo ma tre punti molto importanti cioè l'inizio il centro quando Gesualdo fa il bilancio della sua vita della sua carriera e soprattutto degli affetti delle relazioni sociali della situazione familiare e si sviluppa poi il cosiddetto romanzo di Isabella cioè l'amore tra Isabella e Corrado che verrà contrastato ed è questo una parte una serie di capitoli che sono lavoratissime sia nella redazione della nuova antologia cioè dell'88 il Mastro 88 fa riferimento a questa redazione con il titolo Mastro 88 ma anche poi nell'autografo del Mastro 89 dove ci saranno più e più redazioni prima di arrivare a un risultato soddisfacente e poi il finale del Mastro Gesualdo che viene raggiunto nella sua formula definitiva soltanto sulle bozze in pagina cioè Verga scrive il finale sulle bozze in pagina dunque c'è una fortissima elaborazione del protagonista praticamente che dura per sette anni Verga scrive tra l'altro tra il 1881 e il 1883 ben sette abbozzi del romanzo che vengono stesi secondo uno schema primitivo che vedeva la storia impostata in base a un impianto strutturale molto ampio quasi da racconto pitaresco e si svolgeva in tutte le tappe della vita del protagonista ma anche secondo le date storiche che la scandiscono e cioè 1821 carboneria 1848 rivoluzione 1860 sbarco dei mille comunque dalla nascita di Gesualdo nel 1788 fino alla morte nel 1861 infanzia di Gesualdo dunque che lavora al traghetto del simeto con il padre compare Cosimo che era stato lettighiere ma poi azzoppato dal calcio di un mulo si era dovuto adattare a un altro lavoro diciamo più umile e si segue poi il ragazzo fino alla sua fuga ancora appunto ragazzino adolescente con Donchino il merciaio con cui vagabonda per tutti i paesi dell'etna delle pendici dell'etna tra mestieri leciti e illeciti questo è un materiale che Verga nell'84 scarcherà definitivamente realizzando due racconti che poi concluiranno in vagabondaggio cioè la novella che dà il titolo alla raccolta vagabondaggio nonostante però questo taglio cesareo il romanzo è fermo ci sono molte difficoltà soprattutto Verga è sfiduciato per il successo di importineria nel 1885 è depresso anche per le questioni familiari per le questioni private e a superare questo blocco è decisiva più che la trattativa con l'editore torinese Casanova per la pubblicazione di volume del mastro proprio la proposta della rivista della nuova antologia di pubblicarlo a puntate e quindi lo scrittore è costretto proprio per le scadenze da puntata a puntata a un lavoro a tappe forzate quindi intensissimo e questo è documentato dagli autografi e da molti schemi preliminari che definiscono la vicenda il cui inizio poi viene fissato non più dalla nascita di Gesualdo quindi dalla sua infanzia ma nel 1818 quando Gesualdo ha già compiuto la sua ascesa economica e deve fare il salto di qualità ovvero deve imparentarsi con la restatrazia del paese per avere accesso agli affari più importanti quindi la grande scelta è anzitutto di iniziare il media stress e questo inizio è segnato anche dal contratto matrimoniale tra Gesualdo e Donna Bianca nessuno degli schemi invece prevede quello che sarà poi l'inizio vero cioè l'incendio in casa Trao e il crollo della casina annessa che fa credere al terremoto scena appunto con cui definitivamente si aprirà il romanzo Vergani accenna soltanto in uno degli appunti in cui rimaneggia la struttura e ne scrive come di una sequenza da mettere appunto in limite da mettere all'inizio e infatti in quello che dovrebbe essere il primo inizio attestato da uno degli abbozzi nono abbozzo quindi voi pensate quanto fare e ripare Verga su questo inizio del romanzo si parla di ladri nel palazzo Trao ancora nello stile dei sette abbozzi ormai scartati addirittura con un attacco simile cioè con una prolessi che è tipica del racconto rusticano viene data un'informazione fondamentale sul fatto decisivo dello sviluppo del romanzo cioè il matrimonio tra Gesualdo e Donna Marina che provoca l'aggiunta sarcastica del don nobiliare all'umile mastro subito dopo parte il flashback che segna l'avvio della storia con un attacco tipicamente novellistico una notte il don amastro Gesualdo Camilleri detto pelacanni glielo appiccicola baronessa Sganci vedete appunto nella slide sul video questo inizio dell'abbozzo numero nove dove c'è questa notizia del matrimonio e poi una notte il suo garzone era verso gli ultimi di marzo eccetera quindi uno stile come dire descrittivo che è tipico proprio di questi primi sette abbozzi tutte le informazioni infatti generali della vicenda o sui caratteri dovranno essere non descrittive ma passare attraverso le immagini cioè Verga ha una predisposizione alla visione possiamo dire cinematografica se non fotografica non parliamo di cinema perché sarà poi molto più avanti ma sia un'altra fotografica tra gli accorsi alle grida dei fratelli Trao spicca Gesualdo che armato come un portospino cito si scontra con donna marina pallida e tremante marina appunto il primo nome di Bianca perché ha appena rischiato di farsi trovare con l'amante cioè il futuro donini rubiera che viene scambiato per un ladro gli fittò in faccia quei soccioni grigi che luccitavano e volbettò due o tre volte a denti strecchi assassino assassino dunque che il primo incontro tra i due si verifichi in un momento tanto drammatico è un effetto un po' volgare da romanzone d'appendice in linea peraltro con la precisazione di una delle cronologie che precedono la stesura del Mastro 88 sul fatto che Gesualdo sposa donna marina cito malgrado le sappia un amante quindi consapevolezza di Gesualdo della mossa che sta facendo che è una mossa puramente economica quindi sarebbe in questo caso una scelta come ho detto economica cioè imparentarsi per l'interesse con l'aristocrazia ma anche immorale dopo aver rotto tra l'altro con il suo primo amore Maria che poi sarà Diodata con cui c'è un antico rapporto sentimentale di tipo idilliaco sembrerebbe nelle prime nei primi abbozzi quasi alla pari e non da padrone a serva come sarà in seguito tutto ciò evidentemente parrà scandaloso lo scrittore al punto che nel primo capitolo del Mastro 88 Gesualdo verrà addirittura eliminato cioè il personaggio protagonista non compare e comparirà soltanto nel secondo nei panni che diventeranno poi nel Mastro 89 di un personaggio che sparisce immediatamente cioè un sensale sensale più ottuso in quel momento veniva dal magazzino Mastro di Gesualdo bianco di Pula anch'esso eccetera qui le cose sono dette ancora una volta non rappresentate anche le battute che in una prima fase del manoscritto relativo alla stesura della rivista sono di Gesualdo vengono messe in bocca al padre Mastro Nunzio ma che cosa mira Verga a eliminare ogni contatto tra i due protagonisti per evitare tonalità troppo drammatiche troppo scopertamente drammatiche quasi da foglieton a creare una sorta di suspense sul personaggio protagonista è difficile rispondere ma è chiaro che nonostante abbia messo fuoco la fisionomia economica di Gesualdo è ancora molto incerto sulla dimensione psicologica soprattutto vuole evitare che il protagonista abbia conoscenza diretta della relazione tra Bianca e Nini Rubiera per lasciare tutto nell'ambiguità e tutto affidato agli accenni pettegoli maverati dei parenti che si verificheranno alla fine del capitolo primo Gesualdo nel Mastro 88 è una figura ricca di contrasti perché appare come un duro affarista alla fine del capitolo secondo anche nella sequenza che abbiamo appena visto quando sta trattando con la baronessa Rubiera ma nel capitolo successivo il terzo fa il suo egresso in casa della baronessa Sganci tutto intimidito ed esitante è capace di sentimenti disinteressati verso Maria Diodata che invece nel Mastro 89 sarà un puro sfogo sessuale cito come il bicchiere divino un povero uomo che ha lavorato tutto il giorno poi si innamorerà della moglie e soffrirà per lei come un eroe borghese insomma su Gesualdo e sulla sua determinante presenza nell'avvio del racconto c'è ancora molto da lavorare il Mastro 88 è proprio per questo un romanzo che possiamo definire provvisorio con i primi sette capitoli assai compiuti e per il resto un serbatoio di materiali da ristrutturare riplasmare a cominciare dal protagonista ma come dimostrano gli autografi solo rivedendo le bozze in colonna per il volume Verga riuscirà a portare tutta la narrazione al punto di vista di Gesualdo non solo eliminando tutta la sentimentalissima parte centrale dedicata a Isabelle di Corrado ma rimettendo il suo eroe negli incipi della vicenda e concentrandolo tutto sul salvataggio della sua roba dall'incendio evitando ogni incontro con Bianca e sfumando il carattere di quest'ultima che da alzezzosa aristocratica decaduta aggressiva e padrona di sé diventa una vittima della famiglia del paese del matrimonio ancora nell'autorogro di Vettorato per il Mastro 89 però la parte che sarà di Gesualdo è affidata a un personaggio destinato a scomparire Vitos Guerra sia pur con rinnovate incertezze la sua prima battuta brucia il palazzo capite se ne va in fiamma tutto il quartiere c'è accanto la mia casa per Dio è assegnata decisamente a Vitos Guerra nella didascheglia della seconda battuta cito peggio dell'esca vedete Verga comincia a scrivere Mastro Don G si blocca e torna di Vitos Guerra così è costui che nel manoscritto nella prima redazione promuove ogni azione di spegnimento di soccorso che si slancia per le scale del palazzo Trao urlando la lunga sequenza dei soccorsi non è una minuziosa descrizione di tipo naturalistico Verga applica un metodo nuovo che se apure in una scena ripresa tutta direttamente tende a tagliare scorciare suggerire ma con estrema pregnanza dopo infatti può seguire l'inquadratura sulla casa in discorso in diretto libero naturalmente dal punto di vista di Gesualdo in sintassi nominali totalmente paratattica l'occhio di Gesualdo è una macchina da presa che dopo un'inquadratura complessiva cito una vera bicocca quella casa possiamo passare all'altra slide passa in rassegna i vari elementi che la rendono tale ma nessuno osava avventurarsi su per la scala che traballava una vera bicocca quella casa i muri rotti scalcinati corrosi delle fenditure che scendevano dal cornicione sino a terra le finestre sgangherate senza vetri lo stemma logoro scantonato ma sono Gesualdo voleva prima buttare fuori sulla piazza tutta quella lena accatastata nel portile ci varrà un mese rispose Pelagatti il quale stava a guardare sbandigliando col pistolone in mano santo e santissimo contro il mio muro è accatastata volete sentirla sì o no? e che a guardare sia Gesualdo possiamo passare alla successiva è confermato dalla ripresa del discorso indiretto in cui il protagonista fa la prima proposta di intervento maschio Don Gesualdo voleva prima buttare fuori sulla piazza tutta quella legna accatastata seguito dalla battuta di Pelagatti e dalle imprecazioni dimostranti di Gesualdo santo e santissimo contro il mio muro accatastata e la serie di indiretto libro indiretto tradizionale dialogo e discorso diretto inaugura una tecnica che sarà applicata costantemente nel marzo 79 non solo ma una volta eliminato dal capitolo secondo non viene mai descritto fisicamente perché l'eroe seppur negativo deve emergere per la sua intelligenza la sua capacità imprenditoriale ed economica sulla folla di personaggi che si muovono nel romanzo non solo tra i suoi pari cioè la classe più bassa dei contadini di operai bloccati in una condizione di miseria di soggezione ma tra i borghesi tra i nobili incapaci di arrestare il loro decino così come deve emergere il cuore iniziale con le sue doti di azione di comando di forza con il suo esclusivo interesse per la roba e qui abbiamo la slide dell'incendio con la precedente dell'incendio in cui appunto vediamo alla fine oltre alle battute dei vari dei personaggi del paese c'è l'ultima battuta appunto furibonda di Mastro di Gesualdo perché c'ho accanto la mia casa per Dio la sua ultima apparizione l'ultima battuta nel capitolo che nella seconda parte come ho detto sarà dedicata alla vicenda di Bianca ai commenti del parentato è Mastro di Gesualdo il quale si era slanciato furibondo su per la scaletta della cucina tornò indietro accettato dal fumo pallido come un morto con gli occhi fuori dall'orbita mezzo soffocato santo e santissimo e questa sua imprecazione che viene sempre ripetuta e poi vedete le esclamative e le sospensive non si può da questa parte sono rovinate appunto il clavativo a cambiare l'ottica è uno degli schemi preparati nel momento in cui Verdi ha deciso di rimpostare tutta l'impalcatura del romanzo lo schema per Mastro di Gesualdo è la slide numero 6 no la successiva questa l'abbiamo già letta ancora questa l'ho letta ecco questa è quella giusta ecco dicevo questo schema perché si individua finalmente il motivo psicologico centrale della vicenda avidità di ricchezza Mastro non Gesualdo lo è sacrificio ogni cosa ma la ricchezza non gli dà la felicità nella dolcezza dell'amore nella quiete domestica nell'affetto dei suoi nella soddisfazione della vanità e neppure la salute quindi un fallimento totale dell'eroe nella sua grandiosità è però un eroe negativo però nonostante che qui venga messo a fuoco molto bene il carattere principale il personaggio di Gesualdo fatica ad affermarsi perché il suo nel procedere dei capitoli soprattutto nella parte centrale del passaggio dalla rivista al volume la sua personalità diventa più sfocata e rimane in un certo senso ancora debole e insicuro e mai dominatore della scena come invece nella prima parte tranne qualche rapidissimo flash soprattutto nel dialogo sono i capitoli centrali il decimo e l'undicesimo della rivista l'inizio del decimo conferma l'incapacità del vero di superare il modello che viene quasi possiamo dire il modello flobertiano che però è passato per di più al filtro sentimentale pseudo intimistico dei suoi romanzi mondani o del più diretto antecedente quel cornuto marito di Elina di cui lo scrittore aveva visto i difetti di impianto già durante la stesura quindi il bilancio inizia con l'indicazione appunto dell'educazione di Isabella la figlia Isabellina crebbe nell'isolamento e la freddezza che aumentava sempre più fra i suoi paesi Gesualdo tutto teso appunto all'astralotta per guadagnarsi la vita ma intanto anche in lui è nata una passione nuova e violenta per la moglie che aveva affinato il suo istinto ne aveva ispirato tenderezza esquisita e insolide ma gli aveva anche aperta la morbosa percezione del treno impercettibile con cui reprividivano le labbra di lei sotto i suoi baci e qui assistiamo nelle bozze in colonna a un completo ribaltamento del punto di vista perché il punto di vista in questi capitoli trasposti dalla nuova antologia al volume nell'autografo ancora nell'autografo ma sono Gesualdo ha questo atteggiamento nei confronti della moglie bianca aristocratica fredda chiusa in se stessa mentre Gesualdo soffre appunto tutte le pene di un amore che improvvisamente è nato nonostante appunto il matrimonio sia stato fatto per motivi del tutto estranei e quasi non si accorge di questo amore nascente tra Isabel e Corrado quando durante il polera si sono rifugiati tutti a Mangalavite e Corrado è rimasto orfano è stato accolto appunto la famosa casina di Mangalavite lei insieme alla zia donna Cermena e non se ne accorge Gerga si lancia nel monologo di tra i due una sorta di delizio sentimentale fantastiche le varie di Isabella visioni incantate cito fascini arcani nella risposta di lui dal protagonista Corrado di questa storia la febbre suave del sangue i sogni anche di gloria le imprese del sangue i desideri i sogni alti insomma un lessico meno drammatico che deriva dal fatto che Verga qui ha rovesciato ancora una volta il cannocchiale di fantasticheria ma si è posto nell'ottica sbagliata soprattutto poi è Bianca ad accorgersi di questo romanzetto non Gesualdo e a comunicarlo al marito che non ci crede fa la figura dell'ingenuo Gesualdo alzò di nuovo le spalle quando sua moglie arrivò a confidarmi sui timori e via innamorarsi di quel povero diavolo del resto se il ragazzo ha messo l'occhio sul mio denaro ci penserò io con era o no quindi ho detto un lavoro di revisione notevolissimo tre o quattro stesure parziali finché non si arriva a mettere a fuoco che è Gesualdo che deve osservare che deve guardare e infatti Gesualdo non diceva nessine no prudente da uomo avvezzo muovere sette volte la lingua in bocca prima di lasciarsi scappare una minchioneria lui era ignorante uno che non sapeva nulla ma capiva che quelle belle cose erano trappole per acchiappare i gongi gli stessi arnesi di cui si servono coloro che sanno di lettere per legarvi le mani o tirarvi fuori dei cavigli in un negozio vedete che qui abbiamo anche questo uso del presente improvvisamente una sorta di indiretto libero in cui si tratta appunto di massime generali che non sono cristallizzate nella loro forma come i proverbi ma hanno l'andamento dei proverbi nella loro possiamo dire supposta validità generale è proprio tipico si osserva questo meccanismo anche nel manavoglia insomma abbiamo finalmente nella in questa parte soltanto appunto nel rifacimento ancora manoscritto delle bozze in colonna a un certo punto la bozza in colonna viene corretta poi viene cancellata poi viene riscritta tutta la sequenza poi riscritta ancora finché arriviamo a quel famoso finora erano ragazzate sciocchezze da riderci sopra prende gli scappellotti tutte e due don Gesualdo aveva dei buoni occhi non poteva indovinare tutte le stramberie che fermentavano in quelle teste matte la successiva slide può caricare Isabellina ancora un'altra ecco queste sono finora erano ragazzate ancora indietro di una non poteva indovinare tutte le stramberie che fermentavano in quelle teste matte ma sapeva legge nelle pedate cresche nelle rose canine nell'aria ingenua di Isabella che scendeva a cercare le forbe sul vitale quando per combinazione c'era in sale il cugino nella furberia di lui che fingeva di non guardarla come ti passa e ripassa in una fiera dinanzi alla giovenca che vuole comprare senza darle neppure un'occhiata e qui appunto l'atteggiamento di Corrado viene metaforizzato con un'immagine dal mercato del bestiame in una grande intuizione e raccordo riuscitissimo tra le due parti del solilotto del protagonista ma veniamo al finale il finale tormentato anche qui che cambia più volte dalla versione del mastro 88 vedete appunto nelle slide fino all'ultima raggiunta come vi ho detto sulle bozze in pagina dell'edizione treves dell'89 sembra quasi che Verga debba leggere e leggere prima di arrivare il risultato insottosfacente soltanto rileggendo si accorge che le cose non vanno che bisogna appunto cambiare nella prima redazione Gesualdo muore mentre il duca passeggia nervosamente nell'anticamera Isabella arriva ansante e stranata spaventata più che per l'agonia del padre dallo sguardo indagatore del marito che sospetta sia stata con l'amante Corrado i due non entrano nella stanza ma assistono per così dire all'agonia stando al di qua della porta come rimarcare la loro mancanza di affetto e di partecipazione al dolore del protagonista nella stesore definitiva del manoscritto il delitto di Gesualdo consiste nel soffocamento da roba Gesualdo si lamenta affannato in una serie sospensive come se gli mancassi a respiro a causa della roba che mi invade tutto il corpo non me ne date più non ne voglio sino al ginocchio deve tornare a questa quanta roba quanta non ne voglio e poi che verrà appunto corretta che questa è la prima versione e sembra qui una sorta di contrapasso per chi era stato avido un gordo di roba quasi un incubo da interpretare possiamo dire psicoanaliticamente però è già il contrario di Mazzarò che invece vorrebbe essere la sua roba identificarsi con essa per portarla sempre con sé Gesualdo invece ha capito da tempo il suo fallimento di uomo ha perso l'illusione dell'ascesa sociale attraverso quella economica sulle bozze per la nuova antologia Verga cambia idea estende il finale definitivo per la lista la posizione del duque di Isabella rimane la stessa Gesualdo invece grida furioso un susseguirsi quasi isterico di esclamative contro chi vuol portare via tutto intercalando invocazioni che implorano una pausa figliatevi tutto lasciatemi stare la lia la canziria quindi le sue ultime parole sono per le sue terre amate le belle terre al sole ancora nel manoscritto definitivo per l'edizione in volume Verga non trova il giusto finale la prossima benissimo sta cercando l'angolatura più efficace e insieme che dia più rilievo al dramma della solitudine della totale assenza di affettività per Gesualdo l'agonia è più lunga ed è scritta minuziosamente ma e questa è già una volontà decisiva il punto di vista cambia non è più il narratore impersonale della lista ora è il servitore che assiste seccato sottovalta e non chiama la figlia come supplica quasi Gesualdo e attende l'alba per avvertire a questo punto Verga pensa di chiudere con la variante che è indicata in parentesi l'ultima riga mia figlia volo portò Don Gesualdo se signore vado a chiamarla ma non lo lasciava dormire quell'accidente vedete com'è completamente cambiata l'ottica del racconto tanto che in fine dovete tornare ad alzarsi furbondo masticando delle bestegne e delle parolacce e poi l'alba Don Gesualdo andavasi calmando con gli occhi sempre fissi e spalancati a un tratto si rigigli si chietò del tutto la finestra cominciava a indiancare suonavano le prime campagne nella corte udivesi a scalpitare le cavaglie e picchiare gli strigli sul seggiato il domestico andò a vestirsi e poi tornò a rassettare la camera tirò le cortine del letto e scese ad avvisare la cameria della signora di pressa corretto poi spalancò le vetrate e si affacciò a prendere una boccata d'aria fumando ed è quest'ultima correzione fatta sul manoscritto che poi sulle bozze gli suggererà la scena definitiva ecco anche qui appunto ci aggiunge una battita del servitore don Giuseppe devo dire al portiere che tenga il portone chiuso oggi il suo asso del patrone se ne è andato se Dio vuole non mi ha fatto chiudere occhio stanotte ecco quindi inizio del dialogo con gli altri servitori e poi ancora invece definitiva del manoscritto donna carmelina adesso è a fare vostro bisogna trovare il modo e la maniera di far sapere alla padrona che suo padre se Dio vuole se ne è andato in paradiso non mi ha fatto chiudere occhio stanotte avreste dovuto venire a farmi compagnia tra l'altro viene inserito così non solo un primo tocco di sfruttatezza di stregio per la sofferenza di Gesualdo ma anche si fa rivolgere un dito per nulla ambigo dal servitore alla guardarodiera e poi la definitiva lo stagliere che faceva passeggiare un cavallo malato alzò il capo verso la finestra vedete come tutto più rallentato più graduato ai servitori non importa nulla della morte di Gesualdo il finale sarà soltanto cioè la loro preoccupazione di avvertire quando è il momento in cui si sveglierà la signora Dupessa di avvertirla appunto che il padre è morto mattinata mattinata è don Leopoldo è nottata pure di sposare che a me sbagliando mi è toccato a me questo regalo l'altro scosse il capo come chiedere che c'era di nuovo e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato grazie a Dio ah così alla chetichella lo vedete anche come è molto più raffinato il modo di realizzare le battute le battute proprio il parlato le battute che si scambiano i servitori del tutto indifferenti e poi ecco la novità oltre a questa il primo dialogo degli altri domestici si erano facciati in tante e volerò andare a vedere da lì un po' la camera del morto si riempì di gente in manica di camice con la tito in bocca la guarda robiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dell'infetto venne anche lei a fare capolino nella stanza accanto quanto onore donna carmelina entrate pure non vi mangiamo un'itta e neanche lui non vi mette più le mani addosso di sicuro vedete ancora qui questa tecnica appunto della serie di sospensive zitto scomunicato no paura poveretto ha cessato di penare ed io pure soggiunse don Neopoldo così nel crocchio narrava le novit che gli aveva dato quel cristiano uno che faceva della notte giorno non si sapeva come figliare non era contento male si vede come era nato servò gravemente il coltiere maggiore guardate che mani già sono le mani che hanno fatto la tappa vedete cos'è nato il portinaio intanto vi muore nella battista con un principe allora disse il portinaio devo andare a chiudere il portone sicuro è roba di famiglia adesso bisogna avvertire la camellera della signora difesa insomma Gesualdo muore sì solo in mano ai domestici ma tutto nelle precedenti redazioni finiva con una battuta conclusiva normale il tocco di genio arriva appunto sulle bozze in pagina dopo con l'apertura sull'alba che abbiamo visto nel brano precedente l'alba di un giorno normale indifferente al brano del protagonista la finestra cominciava a indiancare suonavano le prime campane nella corti di un assisto capitale dei cavalli eccetera tutto è filtrato ora attraverso i commenti cinici e i giudizi sferzanti dei domestici che arrivano in folla e notati in maniche di camicia e con la pita in bocca una folla non partecipe che sottolinea la solitudine di Gesualdo e questa folla di servitori che ne rilevano la marginalità sociale esprimono l'invidia sociale anche il mancato rispetto per l'uomo che partendo da una bassa condizione come la loro è diventato ricco perché è intelligente spregiudicato via dunque le urla del moribondo la scena è occupata da queste battute insolenti di questi che a Gesualdo entrando in palazzoneira nell'ultimo capitolo all'inizio dell'ultimo capitolo il quinto della quarta parte erano parsi cito un esercito di mangiapani musi beffavi di mascalzone cameriere sfacciate male femmine con certi visi da madonna definizione pure raggiunte sull'impaginato quando la rilettura accentua i contrasti tra la volverità dei personaggi e la drammaticità dell'eroe così uno scambio di battute irridenti ne sancisce la fine grazie grazie parla Riccardi per questo excursus filologico a cui mi rivolgo soprattutto agli studenti in effetti questo dialogo fra lingua letteratura e filologia è un approccio metodologico importante e penso che anche questa rilettura dei diversi abbozzi del Mastro Don Gesualdo mostri loro come l'opera d'arte il testo non è qualcosa che nasce così dal niente ma è qualcosa che si costruisce il personaggio di Mastro Don Gesualdo ci ha mostrato molto bene Carla Riccardi si costruisce nel tempo attraverso diverse redazioni e la filologia è molto affascinante proprio perché ci permette di vedere come nasce un testo letterario con quante sfumature quindi grazie per questa suggestione per questo escurso filologico ma anche per questa suggestione spendibile in chiave didattica e adesso c'è una sostituzione e al posto di Giorgio Forni che parlerà questo pomeriggio interviene la professoressa Rosaria Sardo che è docente di linguistica italiana all'Università di Catania con un intervento dal titolo Costruzione del testo e questione della lingua verga e l'officina verista a scuola un titolo cambiato rispetto a quello del programma grazie 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 vediamo facciamo prove tecniche di trasmissione si sente si vicini sono microfonata bene bene allora intanto grazie a tutti grazie agli organizzatori grazie a Gabriele Alfieri e a tutti quanti insomma anche ai presenti proviamo insieme oggi a mettere insieme verga ufficina verista e costruzione del testo questione della lingua non si sente ne mettiamo uno solo questo questo è questo questo si è entrato situazione difficile bene proverò a immaginare con voi un percorso proprio diretto alle classi ai nostri studenti basato su un tema che sta a cuore un po' a tutti noi cioè vedere verga all'interno di una situazione di un contesto che ho cercato di sintetizzare visivamente con queste foto e questa parte di un manoscritto che è il manoscritto della sorte di De Roberto postillato corretto da Capuana diciamo rappresenta uno degli interventi più importanti della cosiddetta ufficina verista no? non va avanti così ma così bene dunque propongo oggi un macro testo da esplorare insieme agli studenti a partire dai carteggi dunque un project work che intreccia questione delle competenze linguistiche questione delle scelte linguistiche e stilistiche degli autori prima della stesura del testo durante la stesura del testo e dopo la stesura del testo una scrittura che talvolta si fa cooperativa con modalità particolari proprio tipiche di questa officina verista il testo letterario dunque come abbiamo appena visto con tutti gli interventi e con Carla Riccardi Pocanzi è un'entità relazionale è l'officina verista con il sistema di pratiche di lettura scrittura solidale tra Verga Capuana Capuana e De Roberto e perfino tra De Roberto e Di Giorgi è un unicum nella nostra storia letteraria e va dunque proposto ed esplorato con l'obiettivo di scoprire insieme agli studenti il farsi del testo letterario nel suo dinamismo comunicativo non solo testuale ma anche extratestuale e intertestuale propongo no propongo sì proviamo le proviamo tutte qualcosa riusciremo a fare e così posso andare avanti in questo modo bene ho provato a fare una piccola mappa concettuale e partendo dunque dalla prima parte che non si vede perché c'è questa icona ma io più piccola di così non la so fare e partiamo dunque dal gruppo dei sodali dell'Officina Verista che sono testimoni attenti del farsi dell'opera letteraria dell'amico uno dell'altro poi arriveremo alla ricerca a vedere le modalità della ricerca di una forma espressiva nuova e condivisa vedremo modalità di solidarietà tra loro e difesa nei confronti del mondo dell'editoria della critica vedremo anche modalità di lettura e commenti sui testi degli amici qualche correzione diretta sui manoscritti come quella che ho appena mostrato ma ce ne sono altre probabilmente ce ne parlerà Antonio Di Silvestro a proposito dei carteggi più tardi e poi vedremo anche qualche scelta stilistica condivisa soprattutto in ambito onomastico per esempio si tratterà di vedere anche queste modalità di lavoro cooperativo tra i sodali dell'Officina Verista che prevedeva anche letture ad alta voce letture condivise postille dirette sui libri l'uno dell'altro consigli su testi e manoscritti dell'uno e dell'altro dunque gli strumenti li immaginiamo perché non ho gestito qui sicuramente una piattaforma Moodle però possiamo immaginare di caricare su piattaforma molti dei materiali epistolari esistenti in formato cartaceo selezionati da noi e scoperti pian piano con gli studenti collegarci ai carteggi che sono già online per esempio quelli del CEOD collegarci alle prime edizioni alle edizioni nazionali sono progetti che anche la Fondazione Verga ha in cantiere come pure in cantiere il viver il vocabolario dell'italiano verista al quale si potranno creare insomma dei collegamenti su piattaforma dunque cos'è questa Officina Verista è questo fervido dialogo teorico pratico che tutti conosciamo perché abbiamo letto tanto dei carteggi di Verga Capuana e De Roberto che comincia tra Verga e Capuana proprio come sodalizio amicizia tra il 72 e l'85 e continua tra Verga Capuana e De Roberto dopo l'85 periodo dell'esordio narrativo di De Roberto continua con De Roberto e Di Giorgi e prevedeva discussioni fervide sul laborioso farsi e la scrittura narrativa che voleva essere nuova vera incontrava resistenze da parte di editori lettori critici tradizionalisti si tratta anche di un vero sostegno reciproco nel condividere questa nuova identità e quindi questi scambi di idee consigli e correzioni li vedremo un pochino insieme l'idea è quella di fornire una prospettiva reticolare sul farsi di quest'opera letteraria e dunque testo letterario come crogiolo di esperienze condivise non soltanto in contesto italiano ma ovviamente nel nostro caso in un contesto europeo e non solo per le relazioni dirette di Verga con Zola e con Rod ma anche di De Roberto con Burget di Capuana con Ibsen ma anche tutte quelle indirette testimoniate dai plurimi rimandi intertestuali anche quelli ben esplorati e discussi anche ieri c'è dunque una tensione tra pratiche espressive individuali e discusse coesodali e confronti attivi con la produzione letteraria del tempo linearmente disposti i punti che abbiamo elencato prevedono eventuali link per esempio alla situazione di Firenze e Milano e altre città nell'Italia postunitaria link a Carteggi all'editoria milanese ieri se ne è parlato tanto e andiamo dunque a vedere qualcosa di pratico tratto proprio dagli epistolari punto primo sostegno nel reciproco in questa crescita di sensibilità letteraria e anche problemi di ricezione da parte del pubblico per esempio nei confronti di Eva e Verga scriveva da Milano a Capuana il 5 aprile 73 vorrei averti qui per addossarti una parte di codesto scandalo letterario domandare alla tua franchezza eccetera se potessi avere anche il tuo parere mi conforterebbe assai pensiero nel caso che sotto la vostra egida io andrei a affrontare gli urli e i sasside sullodati ruffiani bordellieri e femmine di mondo e così via qui ho riportato la postillatissima lettera postillata da me in maniera un po' rustica però si potrebbe fare in maniera come dire corretta per dare agli studenti anche la possibilità di vedere tutto l'intero testo epistolare dicevamo letture ad alta voce consigli sui manoscritti l'uno dell'altro e questa pratica della letteratura della lettura ad alta voce con osservazioni da parte dell'uno dell'altro la ritroviamo in questa lettera del 18 febbraio 72 su Delfina di Capuana Verga gli dice ho letto e riletto la tua novella ti dico una cosa che non usinerà il tuo amor proprio di oratore tu leggi orribilmente male mio caro non so a che altro attribuire la nuova e diversa impressione che mi ha fatto la lettura della tua novella ci sono sfumature di colorito finezze di dettaglio che tu non sapevi far risaltare affatto leggendo poi ci sono anche delle osservazioni pratiche di Verga sulla stesura di questa Delfina e quindi suggerisce come vedete dal testo a Capuana una serie di modifiche sul testo da apportare ovviamente in un certo modo perché a suo avviso spostando alcuni pezzi di testo si poteva ottenere un effetto sicuramente migliore in effetti poi Capuana molte di queste idee le recepisce modifica e tutto lo sappiamo ce ne sono testimonianze varie nella stessa lettera si parla di Rose Caduche e ci sono proprio notizie delle correzioni dirette fatte sul manoscritto mio caro Luigi ti sono gratissimo e sentitamente della tua lettera e dei consigli che mi dai la tua franchezza onora te e me ed è anche l'usindiera per me quelle cose che hanno meritato la tua simpatia persisto sempre nell'idea di lasciare a codesse scena le modeste proporzioni di un esercizio ma giacchetto mi incoraggio a farlo tenterò la scena con altro argomento perché avrei da fare tanti cambiamenti e tagli in quello che ho scritto che temo riuscirebbe un pasticcio i consigli che mi dai li terrò preziosi di alcuni avevo il presentimento se non l'idea chiara appena avrò sott'occhio il manoscritto mi affretterò a riscontrare le scene dove cadono le tue osservazioni e a studiarci sopra fra non molto spero di mostrarti col fatto qualcontro abbia tenuto dei tuoi consigli dunque anche qui immaginiamo un link con una riproduzione migliore della lettera che qui ho riprodotto in maniera veramente troppo artigianale ma sulle letture condivise c'è da dire qualcosa anche negli studi di Simone Inzerra sulla biblioteca appunto dei nostri veristi ci sono delle cose interessanti proprio sulle postille dell'uno e dell'altro e qui in questa lettera si parla della Bovary e Berga Capuana dice ho trovato giustissime le tue osservazioni segnate a margine stavo quasi per farvene anch'io un dialogo dunque anche a margine del testo dicevamo solidarietà e difesa nei confronti dell'editoria che a volte era ostile nel carteggio Berga Capuana emergono tutta una serie di problemi relativi alla pubblicazione di profili di donna ma anche a proposito della pubblicazione delle fiabe di Capuana delle quali si parlava anche ieri ne ha parlato Riccardo Castellana e a proposito proprio della prima edizione delle fiabe di Capuana c'è un punto abbastanza interessante che potrebbe consentire di aprire un ulteriore link sul tema della fiaba in epoca postunitaria nel settembre 82 infatti Capuana aveva inviato a Berga da Roma una copia del volume di C'era una volta e l'amico gli aveva risposto con una lettera ricca di entusiasmo lodandole per quello che ci ho sentito sotto dischiettamente profondamente compenetrato così col nostro carattere isolano che il paesaggio e le figure nostrane mi si disegnano spontaneamente dinanzi a quella vergine poesia io spero che tu non avrai cambiato neanche una virgola alla favola genuina delle nostre donne naturalmente Capuana aveva cambiato tutto infatti lo disillude in una lettera successiva non posso resistere alla tentazione di disingannarti non posso resistere alla mia vanità di dirti che in tutto quel libro non c'è una sola virgola che la favola genuina delle nostre donne possa reclamare che tutto quel mondo di fatti di personaggi di nuovi è un mondo mio sbucciatemi nell'immaginazione non so come e risponde Berga in un modo assolutamente più profondo e chiarificatore carissimo Luigi me l'hai fatta con le fiabe mi sta bene però tu stesso non saprai mai quanta parte inconscia e materiale direi ci sia della nostra Sicilia nella più intima espressione di quei racconti che saranno sempre una delle più belle cose che tu abbia mai scritto dunque a questo punto sul tema che abbiamo appena affrontato potremmo idealmente insieme sempre su questa piattaforma ideale che stiamo immaginando aprire un iperlink sul tema di fiaba popolare e fiaba d'autore con eventualmente cinque snodi identitari per la fiaba italiana oppure anche con qualche questione filologica come quella che ha proposto ieri Riccardo Castellana e dunque potremmo andare a vedere che in fondo i confini tra fiaba popolare e fiaba d'autore non sono così netti che le intersezioni sono continue e feconde soprattutto nel caso delle 74 fiabe di Capuana e se andiamo a guardare questi snodi che possiamo immaginare nella storia della fiaba italiana possiamo arrivare con i nostri studenti fino all'immaginario fiabesco di oggi che è un immaginario assolutamente contaminato mescolato pensiamo tutti per esempio al grandissimo sette immaginario di Trono di Spade tra l'altro la questione della lingua e della fiaba in questo periodo postunitario potrebbe consentire davvero una serie di approfondimenti interessanti a proposito del rapporto anche come dire vivace in termini di scambio tra P3 e Capuana perché le posizioni dell'uno e dell'altro l'uno apparentemente totalmente fedele alla componente dialettale riproduttiva dell'oralità e l'altro invece sul versante letterario in realtà le posizioni non sono così distanti perché appunto dicevamo i confini tra oralità e scrittura nelle due tessiture e sulla fiaba sono abbastanza vicine perché il tostanismo unitarista di Capuana che si manifesta in una serie di esempi che non sto a leggervi ma che potete vedere che ho tirato fuori un po' da queste 74 fiabe di Capuana sono la componente letteraria e toscana è fortissima ma c'è anche un sostrato interessante di dialetto nascosto che si può osservare come spesso come ovviamente conosciamo tutti e parliamo anche degli innesti fraseologici dei quali ci ha parlato Gabriele Alfieri ovviamente ma qui più che inserti fraseologici sono come dire delle tensioni soggiacenti tra regionalità e italiano cioè toscano del tempo che si manifestano in una serie di espressioni locuzioni singoli lesseni ripeto non li elenco ma li vedete qui nello schema Tizioncino fa l'uovo aggiornare aggrinare cimentarsi dire grano malearti maspitare tossico saper duro e ancora più interessanti nelle filastrocche interne alle fiabe ci sono una serie di modi proverbiali che mostrano proprio questa tensione regionalità e toscano in P3 apparentemente c'è una narrazione tutta dialettale ma in ogni fiaba ci sono almeno una sessantina di note esplicative in italiano molto toscanizzato e qui il cerchio si chiude infatti chiudo anche il possibile hyperlink perché torniamo a quello che avevamo schematizzato e dunque alle scelte stilistiche Berga a Luigi Capuana scriveva il 17 maggio 78 a proposito mi hai trovato un'induria che si adatta al mio titolo che ti sembra dei malavoglia potresti indicarmi una raccolta di proverbi e modi di dire siciliani sappiamo che poi c'è tutto lo scambio sui materiali di P3 anche Capuana chiede a Berga un parere sul nome e sul cognome da dare a Giacinta e le soluzioni proposte da Berga sono tante ma alla fine se ne trova uno caro Luigi Marzulli no se tieni a lei Dorselli Marullo preferirei solo il nome Giacinta mi suona meglio due sillabe marmonose e qui appunto espansioni possibili sulle lettere sul avere a cuore le opere dell'amico ci sono tantissime testimonianze e anche alcune più note altre meno note però si attende l'uno attende l'opera dell'altro e ovviamente conosciamo tutti un po' la storia dell'inizio insomma quindi ci sono qui riportati alcuni brani di quando i malavogli era ancora un bozzetto e possiamo insomma anche andare a vedere quando si trasforma nel dialogo questo bozzetto si trasforma scusate in qualcosa di diverso officina operativa di correzione sul testo di manoscritto di un amico e dunque qui le cose più evidenti sono le correzioni di Capuana ai manoscritti di Roberto non so se sto sforando ma sto quasi per concludere ditemi voi perché è interessante l'invio del manoscritto della sorte delle sette novelle della sorte a Verga e a Capuana e il diverso riscontro che da l'uno e l'altro Verga dà indicazioni di metodo tra l'altro indicando quali sono secondo lui le novelle più interessanti dando anche un ordine di preferenza e congratulandosi con De Roberto che comincia come altri non sanno arrivare a fare pestando anni e anni lo stesso Tobalto e lo stesso Cinabrio Cinabrio è nel solito mestario dei groglieri che vogliono essere artisti ma andiamo avanti se no ci direbbero che facciamo dei taglierini in casa andiamo avanti per la nostra strada tenendoci per mano sono tutte cose notissime ma che messe insieme danno il senso danno il senso ancora più non si era sentito niente però si è visto se un canale comunicativo non aiuta l'altro magari sostiene quindi proviamo a comunicare e dicevo sono testi notissimi però riguardarli nell'ottica di un'officina verista quindi di questo crogiolo di idee di attività dei sudali è interessante i pareri di Capuana sulla raccolta sono sicuramente più precisi più tecnici ma soprattutto più operativi perché il manoscritto intero viene inviato a Capuana che se lo tiene per un bel po' di tempo e lo postilla ampiamente come vedremo con tre lapis di colore diverso il lapis rosso taglia le cose da tagliare verde accorciare blu cambiamenti di ordine linguistico stilistico e Capuana lo aveva già detto a De Roberto attenzione in lei c'è la vera stoffa del novelliere ma un giorno che scriverà un'altra novella meno zeppa di sicilianismi voluti farà una bella cosa davvero gli piace Malanova ma ci sono troppi sicilianismi voluti così De Roberto comincia un'attività anche autocorrettoria che non lo lascerà fino alla fine dei suoi giorni e esempi importanti eclatanti si trovano in questo schema del manoscritto della sorte del quale insomma De Roberto ringrazia Capuana in maniera veramente efficace dicendo al tocco magico del tuo lapis verde la luce si è fatta nel mio spirito ho visto il gonfio il tume fatto il marcio ho cominciato a tagliare a segare e quando penso che senza di te sarebbero restate tutte quelle prolissità quelle inutilità tutti quei sicilianismi che mi parevano le uniche espressioni e che avrebbero fatto ridere i polli anzi non sarebbero stati neanche capiti e qui non so se si si vede bene c'è una parte di questo manoscritto di De Roberto postillato da Capuana postillato ampiamente lapis verde da accorciare lapis rosso da tagliare lapis blu osservazioni strettamente linguistiche in chiave toscanista in questo schema si vedono non riesco a togliere la barra di sopra comunque nella terza colonna ci sono le correzioni proprio di Capuana e sono correzioni significative in direzione di un toscanismo spinto vado ancora avanti correzioni di ogni tipo anche strettamente lessicale o di ordine morfosintattico o sintattico perfetto abbiamo trovato una mezza soluzione e ovviamente chi avrà voglia potrà creare eventualmente anche lì un iperlink con tutte queste varianti che sono a disposizione e le mezza posso sicuramente darle adesso però si è bloccato il che genera un po' di movimento tanto abbiamo finito quindi potremmo volendo anche concludere qui perfetto perfetto quasi concludiamo dicendo che appunto dietro ogni esperienza nuova dei sodali c'è sempre il sostegno forte dell'amico che addirittura viene definito fratello d'arte carne della mia carne e questo lo dice Verga a Capuana dopo la lettura dei suoi semiritmi che rappresentano per Verga poesia vera profonda e potente e oltre che condivisione e correzione anche sogni sogno per esempio di fondare una casa editrice insieme ma stavolta è Capuana che si tira indietro volevano fondare una casa editrice e anche un giornale quotidiano politico letterario il progetto non va in porto sappiamo anche tentativi di scrittura cooperativa per esempio Verga e De Roberto per la riscrittura della lupa ma riscrittura di un libretto che poi vedrà la luce solo nel 19 sappiamo che sul teatro tra i sodali non c'era per niente accordo non mancavano contrasti e divergenze rivedute ma questo anzi accendeva come dire un dibattito interessante proprio all'interno dell'officina verista con Verga e De Roberto supposizioni verso italianità di fondo e lontananza dal teatro dialettale Capuana dimestitezza con le tradizioni popolari e scelta nei confronti del teatro dialettale e tra l'altro con piccole punzecchiature dell'uno all'altro la dedica di Capuana Verga a Don Giovanni Verga a Piffalla Raggiare e custodiarci dialettale siciliano e c'è ancora un altro volume e Verga non se la prende naturalmente e solo in questo caso risponde usando il siciliano come codice di complicità con la tipo bravo Fratozzo Bello così sempre tu ti abbraccio e ti grazie a questo punto abbiamo davvero concluso perché con questo sistema di perlink potremmo far vedere che l'officina verista nata nel cuore dei begli anni vergiani non è l'unica pratica collaborativa e non è l'unico settore di scambio ed amicizia l'officina verista fa parte della grande rete amicale di verga che si snodava tra Milano e la Sicilia un filo rosso che lega il caffè biffi ricordato da Sacchetti o da Marco Praga alle discussioni invece fatte proprio a Catania e un altro hyperlink potrebbe condurci a riconsiderare i rapporti tra l'officina verista e l'officina zoliana anche se rispetto all'officina zoliana ci sono delle asimmetrie insomma c'è qualcosa di diverso Paget ci ha mostrato molto sul naturalismo collaborativo del gruppo di Zola però sicuramente dei riferimenti potranno essere fatti anche alle sue rete medan e sicuramente anche questo in chiave di mappa di hyperlink concludo dunque dicendo che esplorare insieme ai nostri studenti aree meno frequentate nella testualità dei nostri autori come quella pistolare con questo metodo di scoperta progressiva dei collegamenti può essere stimolante e osservare verga dentro l'officina verista è solo un piccolo spunto di lavoro sicuramente saranno avviati altri percorsi vergiani con l'ausilio di risorse multimediali che oggi sono sempre più accessibili e soprattutto grazie all'ausilio di progetti sperimentali che oggi di fatto vengono condotti a scuola con occhio attento alle esigenze dei nativi digitali e secondo le linee di ricerca che sono emerse in molti degli studi presentati a questo congresso e a questo punto grazie per la pagina grazie 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 io ringrazio Rosaria per questo excursus didattico che si collega perfettamente devo dire che i primi tre interventi di questa mattinata sono legati gli uni agli altri perché hanno proposto un ingresso nell'officina vergiana nei vari generi e in particolare quest'ultimo di Rosaria Sardo ha mostrato come la filologia si può coniugare anche a percorsi extratestuali quindi l'importanza dello studio dei carteggi che sicuramente i carteggi hanno un'importanza rilevante nell'ottocento e anche è molto affascinante penso anche per gli studenti questa dimensione di gruppo di sodali di comunità che si confronta di amici e poi anche questi collegamenti agli strumenti digitali per la didattica su verga anche questo è sicuramente molto importante allora è prevista una pausa però io vorrei sapere se ci sono delle domande anche da parte del pubblico a casa sui primi tre interventi della mattinata e in modo che possiamo erano interventi legati gli uni agli altri quindi magari possiamo vedere se ci sono delle domande prima di fare la pausa anche da qualcuna a casa nella chat intanto saluto vedo il professor Polimeni professore pensavamo di fare dieci minuti di pausa per me benissimo per me allora possiamo fare così se non ci sono delle domande adesso le possiamo concentrare tutte alla fine della mattinata così così magari ci si pensa appunto il pubblico a casa o quello presente in sala può pensare a delle domande e le concentriamo tutte alla fine della mattinata allora ci ritroviamo alle 11 e un quarto grazie e grazie anche a chi è collegato da casa 11 e 20 11 e 20 grazie a tutti 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 come state grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Silvia non si sente. Silvia? Adesso ti sento. Sì, sì, sì. Ti sento. Grazie. Benissimo. No, ora non più. Penso sia un problema generale qui sulla piattaforma. Silvia non si sente. Io non sento. Adesso, Giuseppe? Adesso sì. Adesso ti sento, sì. Benissimo. Allora, Giuseppe Polimeni insegna linguistica italiana all'Università di Milano Statale e fa parte del consiglio direttivo della Fondazione Verga e il titolo del suo intervento di oggi è Da quel ramo del lago di Como alla sciara di Trezza. Contatti di Lingua e di Stile per una didattica dell'Italiano. Prego. Grazie. Ringrazio la collega per la presentazione e ringrazio Gabriella Alfieri e Andrea Manganaro che mi hanno invitato a partecipare a questo convegno. Ribadisco, ma lo hanno già fatto più illustri colleghi che mi hanno preceduto, l'importanza che il primo convegno direi ufficiale di questo anno centenario per la Fondazione sia un convegno dedicato alla scuola, cioè alla storia in fondo e alla ricezione di Verga Scuola, ma soprattutto alle prospettive future che abbiamo di lettura del Verga. e delle sue opere nella scuola. Allora, condivido un PowerPoint, spero che sia visibile, spero anche che voi mi sentiate nel frattempo, sia su Zoom che a casa. Si è parlato negli interventi di ieri e anche naturalmente in quelli di questa mattinata del tema del canone scolastico, il canone scolastico del Novecento, ancora molto difficile da tracciare, e il canone scolastico dell'Ottocento che pure resta un problema aperto, direi non possiamo dire chiusa la questione di quali autori e soprattutto del modo con cui possono essere presentati nella scuola e naturalmente bisogna ragionare anche sull'ordine scolastico di riferimento. Certo, l'Ottocento si presenta nelle antologie come in generale nei manuali e nell'attività dei colleghi che insegnano nella secondaria è costruito, direi intorno a due polarità per ciò che riguarda la prosa, cioè Manzoni, i Promessi Sposi, e Verga, i Malavoglia sicuramente, con la necessità di aprire naturalmente anche al Mastro Don Gesualdo. Possiamo forse per la prosa ampliare ad una terza polarità che come ci ricordano maestri importanti nel metodo di studio e nell'analisi va senz'altro citata, cioè le operette morali che hanno appunto lo stesso anno d'uscita della prima edizione dei Promessi Sposi. Sarebbe molto interessante, in parte si è detto qualcosa anche ieri, tracciare una storia della ricezione scolastica di Verga che sicuramente è una ricezione più tarda rispetto a quella del Manzoni. Manzoni entra nella scuola molto presto, addirittura ci sono tracce di letture, di commento dagli anni 30 e 40, prima per le poesie e poi per il romanzo, ma entra nei programmi ufficialmente a partire dagli anni 70-80 dell'Ottocento e l'obbligo di lettura del Manzoni dai primi anni del Novecento, più o meno, quindi con decreto appunto ufficiale. Questa, diremmo, è una storia molto sintetica. La presentazione di un classico a scuola, lo sanno molto bene gli insegnanti che sono collegati, è prima di tutto un problema di lingua. Questo è quello che emerge ogni volta che incontriamo per l'aggiornamento insegnanti attivi nei due ambiti di scuola, nei due ambiti scolastici, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e direi anche per nostra esperienza personale. Recording in progress. Gli insegnanti misurano la distanza tra il classico e il presente, cioè la competenza e l'interesse dei loro alunni. A volte si è addirittura tentati di pensare che sia più semplice, pur con le grandi difficoltà che ci sono, insegnare a scrivere, a comporre, a costruire un testo e più difficile leggere testi nella storia. Proprio ieri un bell'intervento nella chat di una collega che insegna nella scuola secondaria diceva, ci ricordava il lavoro che fanno gli insegnanti che conoscete prima di tutto nel recuperare le competenze linguistiche degli studenti attraverso la letteratura. Dobbiamo porci, diceva, con umiltà e decisione nei confronti dei nostri ragazzi, quindi per veicolare testi complessi che sembrano appunto distanti dalle loro competenze, a volte anche dagli interessi dei ragazzi stessi. Molti sono gli interrogativi che pone proprio il tema dell'insegnamento e soprattutto della mediazione di un testo che da un punto di vista linguistico per molte ragioni può apparire distante o più complesso. Rimando qui alla riflessione, direi, illuminante di Luca Serianni che in molte occasioni ha riflettuto. Silvia, non ti sento Silvia. Ti pregavo di guardare nello schermo perché quando giri il volto non riusciamo più a sentire. Va bene, sicuramente, benissimo. Allora dicevo che il problema che pone il testo, i testi storici, è stato affrontato in chiave linguistica ovviamente da Luca Serianni che ci ha lasciato una serie di considerazioni su cui noi riflettiamo e su cui riflettiamo con lui periodicamente proprio sulla mediazione del testo letterario nella scuola. Quindi è un problema aperto. Vorrei oggi ragionare brevemente su due livelli. Da un lato appunto la riflessione che abbiamo detto essere quella della mediazione del testo letterario e dall'altro proprio di questa polarità che va superata, in parte sicuramente è stata superata, Manzoni-Verga. Direi che il primo approccio, a mio parere, deve essere quello offerto, anzi sicuramente quello offerto dal volume di Gabriella Alfieri, Verga, apparso appunto per i tipi della Salerno. Questo volume ha una novità di metodo, di approccio che è innanzitutto quella di una adderenza ai fonti e ai documenti della vita, dell'elaborazione delle opere, un'attenzione filologica molto avanzata e soprattutto un'attenzione all'aspetto stilistico, alle componenti stilistiche dell'opera di Verga. Direi tra i grandi meriti che questo libro ha e invito le persone che ci ascoltano a leggere questo volume che riscrive la presenza di Verga nel canone della letteratura e della lingua italiana dell'Ottocento e direi anche del Novecento. E uno dei meriti di questo volume è quello di aver portato alla luce e sottolineato che nella biografia di Verga, nella biografia intellettuale di Verga, fondamentali sono gli anni che Verga trascorre a Milano. È un ventennio che comincia nel 1871, qui riprendo le indicazioni che si desumono dal volume, è un ventennio in cui, certo, Verga non è soltanto a Milano e Gabriella Alfieri ricostruisce molto bene i percorsi reali e mentali di Verga in questo ventennio milanese, ma è appunto a Milano, è milanese perché Milano rappresenta, è detto molto bene, la capitale editoriale sicuramente d'Italia, ma soprattutto un centro culturale di riferimento ben più di quanto possa essere in quegli anni Firenze. Quindi Verga non tenta l'operazione, diciamo, di De Amicis, ma che, come sappiamo, trascorre un periodo piuttosto importante a Firenze, ma tenta una soluzione diversa che è appunto quella di Milano. E direi che proprio su questo rapporto con Milano valetta in questo rapporto con Milano valetta la figura di Verga anche nel rapporto con Manzoni. Quindi proverò a dare alcuni spunti, spero possano essere in qualche modo utili, agli insegnanti. Sono tre suggestioni, quindi perdonatemi se sono tre spunti, ma lascio a voi che sicuramente sapete ben più di me presentare e rivedere queste idee o questi spunti e anche discuterli. Allora, il primo aspetto è collegato appunto al fatto che Manzoni rappresenta nella storia di Verga un riferimento fisso. Ce lo dicono gli editori, ce lo dicono i carteggi e vedete qui un'intervista del 16 marzo 1919 in cui si dice che per trovare in Italia un grande artista nel campo del romanzo bisogna saltare di pie pari da Manzoni a lei. E Verga risponde, Verga invece è lui che salta in piedi questa volta e dice che Alessandro Manzoni è inarrivabile. Io vedo, leggo sempre insaziabilmente e vi scorgo sempre nuovi pregi, nuove bellezze, nuove profondità, ma no, Alessandro Manzoni è inarrivabile. Nei documenti che Gabriele Alfieri ha portato alla luce c'è anche l'ammissione che Verga fa di leggere un solo libro, cioè i Promessi Sposi. Vorrei cominciare con tre momenti, molto brevemente, spero di tenermi nei tempi che mi avete, che sono stati assegnati. e il primo momento è molto evocativo e secondo me può essere proposto in una classe soprattutto perché permette anche qualche riflessione e approfondimento trasversale. Cito dalle lettere alla famiglia nell'edizione molto bella e molto importante curata da Giuseppe Savoca e Antonio Di Silvestro 2011. È una lettera alla madre, a mamà, così la chiama Verga, datata 24 maggio 1874. Non sarà sfuggito che ci troviamo ad un anno esatto, giorno più, giorno meno, dalla morte di Alessandro Manzoni. E come molti sanno, proprio a un anno esatto, Verdi aveva proposto alla scala il suo Requiem scritto per la morte di Manzoni è un testo importantissimo che collega l'esperienza verdiana a quella appunto manzoniana. E qui la cosa interessante è che il giorno prima il giorno prima Verga assiste a quella che viene considerata appunto la prima di questo Requiem. Cioè, nella chiesa di San Marco a Milano la città è invitata ad ascoltare per la prima volta, quindi prima della scala, il Requiem di Verdi. Qui scrive alla madre, è un testo molto bello, ho potuto assistere per un biglietto procuratomi da Treves alla messa di Verdi per l'anniversario di Manzoni. Fu una solennità imponente, giammai si era vista tanta folla di quello che c'è di più scelto nella città, forestieri distinti in gran numero, giornalisti, letterati, musicisti stranieri, Verdi dirigeva l'orchestra, del resto uno spettacolo teatrale piuttosto che una mesta funzione religiosa, la chiesa stipata da una folla in gala, sussurrante, agitantesi, sbirciantesi con l'occhialetto come in teatro. E qui ci sono anche, c'è il coro e da un lato e dall'altro Verdi, non vidi un prete o un sagrestano, del resto leggerete sui giornali tutti i dettagli, l'effetto della musica fu però grandioso, immenso, domani sera si replicherà la scala, ma la semplice poltrona costerà 30 franchi, malgrado ciò dice io metterò a dormire la mia curiosità che troverei un po' troppo cara. È un'immagine credo suggestiva alla forza dei simboli per chi volesse proprio nella scuola portare una riflessione su questo momento in cui nel segno della figura e dell'opera di Manzoni Verdi e Verga si trovano diciamo nello stesso luogo ad ascoltare appunto questo requiem il primo lo ha scritto e lo dirige e l'altro come dire a partire nella sua esperienza milanese anche da questo quindi è uno spunto che do una cosa suggestiva che forse si può davvero utilizzare nella pratica didattica quotidiana il secondo spunto su cui volevo portare l'attenzione è la prefazione ma la voglia per un'altra suggestione una cosa su cui si è abbastanza insistito ma che vale la pena di ricordare è che la prefazione è datata a Milano 19 gennaio 1881 se appunto come ha dimostrato Gabriele Alfieri del gennaio del 71 e l'arrivo di Verga Milano siamo esattamente a dieci anni da quella data e comunque interessa qui il riferimento a Milano a questa città in cui i Malavoglia vengono scritti anche se diverse sono le occasioni in cui Verga torna a pensate di questo aspetto del ritorno di Verga a Catania ci danno notizia le riviste di quegli anni proprio dell'ottanta e poi dell'ottantuno dicendo che appunto Verga era Catania perché stava scrivendo un racconto appunto padrontoni che sarebbe appunto diventato romanzo quindi la decisione è quella di parlare appunto di Milano o da Milano in quel momento la famosa immagine e appunto mi collego a questo spunto didattico della Fiumana può sollecitare anche in classe alcune riflessioni importanti che vedono avvicinarsi la capacità descrittiva e anche di riflessione di questi due scrittori il movente dell'attività umana che produce la Fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti scrive Verga nelle proporzioni più modeste e materiali solo l'osservatore travolto anch'esso dalla Fiumana guardandosi attorno ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto ai vinti che levano le braccia disperate e fermo qui perché è un passo molto noto e sarebbe bello interessante poterlo avvicinare e discutere considerando i capitoli di Renzo a Milano in particolare l'arrivo di Renzo a Milano nel capitolo 11 il finale del capitolo 11 e il capitolo 12 dove si racconta il tumulto di San Martino e qui vedete c'è un passo su cui si è molto riflettuto l'ha fatto per esempio Raimondi in maniera molto acuta anche nella sua edizione scolastica di commento dei promessi sposi fece dieci passi verso la porta della chiesa qui Renzo sta seguendo le indicazioni di padre Cristoforo per seguire il consiglio del portinaio ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto attraversò la piazzetta si portò sull'orlo della strada e si fermò con le braccia incrociate sul petto a guardare a sinistra verso l'interno della città dove il brulichio era più folto e più rumoroso quindi si ferma e osserva guardate questa riflessione che segue il vortice attrasse lo spettatore andiamo a vedere disse tra sé tirò fuori il suo mezzo pane e sbocconcellando si mosse verso quella parte quindi l'osservatore che ha una valenza sappiamo importante proprio nel naturalismo degli anni di Verga e qui era appunto lo spettatore che diventa poi parte in causa e ancora di più lascio a voi poi di leggere nel capitolo 12 dei promessi sposi l'immagine dell'acqua che cresce fatta prima da gocce poi divenuta torrente che travolge in parte Renzo è un'immagine che si può avvicinare discutere confrontare anche per rilevare le differenze con la fiumana del Verga un terzo spunto che avevo già avuto modo di discutere nella il 26 gennaio per la verità lo aveva fatto leggendo molto bene e lo ringrazio il mio testo Andrea Manganaro qui c'è un confronto tra una situazione dei malavoglia e una situazione meno tragica potremmo anche dire quasi villica dei promessi sposi nel capitolo terzo leggiamo le comari mentre tornavano dall'osteria con l'orciolino dell'olio col fiaschetto del vino si fermavano a barattare qualche parola con la lunga senza aver l'aria di dire l'aria di nulla scusate e qualche amico di suo marito bastianazzo compare cipolla per esempio compare mangia carrube passando dalla sciara per dare un'occhiata verso il mare e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone andavano a domandare a comare la lunga di suo marito e stavano un tantino a farle compagnia fumandole in silenzio la pipa sotto il naso o parlando sottovoce fra di loro qui si vede proprio come ci sia il senso dell'attesa del ritorno di bastianazzo della provvidenza e le comari passano dalla sciara e barattano qualche parola a barattare qualche parola di ritorno dall'osteria tutto si svolge nel sottovoce di questa attesa in contrapunto con il mare che invece è il vecchio brontolone e così rileggiamo Promessi Sposi capitolo settimo un momento di grande tensione sta calando la notte si prepara il capitolo ottavo cioè la notte degli imbrogli dei sotterfugi e Manzoni descrive il paese che torna dai campi c'era infatti e quindi il ritorno a casa c'era infatti quel brulichio quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e dopo pochi momenti dal luogo alla quiete solenne della notte le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzi più grandini ai quali facevano dire le divozioni della sera veniva gli uomini con le vanghe con le zappe sulle spalle all'aprirsi degli usci si vedevano lucicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata e più delle parole si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il finire del giorno quando Renzo vide che i due indiscreti si erano ritirati continuò la sua strada nelle tenebre crescenti dando sottovoce ora un ricordo ora un altro ora all'uno ora all'altro fratello arrivarono alla casetta di Lucia che era già notte e mi piace pensare che ci sia un legame profondo tra questo barattare i saluti e qualche parola con quel barattare qualche parola di trezza di acitrezza dove nella piccola comunità e questa è la riflessione che possiamo portare ai nostri alunni ogni come dire ogni cosa che si dà deve avere qualcosa in cambio e cioè un baratto anche il saluto anche appunto la parola uno scambio che avviene proprio in questa economia del parlato economia della parola e quindi una riflessione su questo può collegare può avvicinare due scrittori tanto più mi scuso per la per l'immagine che non è molto bella tanto più che sarebbe bello anche far vedere agli alunni come lavorava Manzoni abbiamo vari strumenti che ci permettono di farlo certamente l'edizione caretti dei promessi sposi qui vedete questo passo dove sono le varianti dal 20 al 40 e vedete proprio nel punto che ho letto prima e su cui mi sono soffermato si udivano diceva nella ventisettana nella via saluti dati renduti e colloqui brevi e tristi sulla scarsetta del ricolto diventa si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata è proprio qui la diciamo correzione di Manzoni che ci fa riflettere su come si è arrivato a quel barattare attraverso una riflessione una riflessione che faceva cadere quel saluti dati renduti forma complessa sotto ogni punto di vista forma troppo letteraria pensate anche a questo participio renduti rispetto a resi quindi ha una forma invece più efficace che ci fa vedere come nel paese dei promessi sposi il saluto sia appunto un baratto e anche queste parole siano barattate fa piacere ed è una suggestione spero interessante anche per voi pensare che Verga l'abbia così raccolto dall'immagine manzoniana e l'abbia portato appunto sulla sciara di Trezza ben conoscendo lui i promessi sposi e ben conoscendo questo passo che il che Pascoli aveva definito la sera del villaggio e aveva paragonato appunto al sabato del villaggio di Giacomo Leopardi vi ringrazio grazie grazie Giuseppe Polimeni si sente? si allora ti ringraziamo questa questo contributo che in effetti mette in relazione due grandi autori che gli studenti studiano l'ultimo anno e che mostra appunto come si collega anche i contributi di prima in questa dimensione di officina verghiana mostra come i testi vanno anche sempre letti in chiave di intertestualità di collegamenti con quello che precede e non solo i testi sono elaborati all'interno della carriera degli autori ma anche si raffrontano con gli autori che precedono e poi anche questa insistenza sulla questa importanza della biografia anche mi sembra anche questo che sia un elemento che è già emerso e già emerso ieri nell'intervento di Tellini l'importanza della biografia che supporta poi quell'interpretazione in chiave nazionale di Verga che elabora proprio in malavoglia dopo un decennio trascorso Milano e quindi questo lo proietta in una dimensione che non è certo quella regionale pur non perdendo nulla della ricchezza dell'apporto siciliano quindi grazie e continuiamo con la quinta relazione della mattinata che è di Antonio Di Silvestro che è in presenza che insegna filologia italiana all'università di Catania anche lui è membro del consiglio direttivo della fondazione Verga e il titolo del suo intervento è l'autore e l'opera leggere Verga attraverso gli epistolari grazie a tutti 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti.